Sì, abbiamo questa bella trasferta in Sardegna, la prepareremo questa settimana al massimo delle nostre possibilità come sempre. Una squadra difficile che ha concluso la prima parte del campionato in ottava posizione ma con dieci partite perse. Ma noi dobbiamo pensare prima di tutto a noi stesse, l'importante è che prepariamo il nostro gioco al massimo delle nostre potenzialità, quindi sarà una partita come le altre da non sottovalutare, e da affrontare col massimo della grinta possibile. La prima partita non è andata al meglio, un momento di difficoltà della fine col match con Bergamo, che cosa è accaduto? Sì, terzo e quarto quarto abbiamo durato più un po' fatica in fase offensiva soprattutto, partita molto tosta a livello difensivo però cercheremo di migliorare ogni settimana.